Per una nuova puntata di Coldiretti Flash, Bruno Rivarossa lascia la direzione di Coldiretti Cuneo e Piemonti in quanto nominato dalla giunta della Confederazione Nazionale Coldiretti quale capo area, organizzazione e servizi. Di subentra Enzo Pagliano, attualmente direttore in vendito con una lunga esperienza di direzioni provinciali e regionali in giro per l'Italia. Vediamo insieme il servizio. Enzo Pagliano è il nuovo direttore di Coldiretti Cuneo, originario di Monbarcaro, 50 anni, sposato con due figli, già direttore di Bologna, di Milano Lodi, provinciale di Venezia e regionale del Veneto. E' stato nominato dal Consiglio Provinciale di Cuneo su indicazione della Confederazione Nazionale Coldiretti lunedì 17 febbraio 2014. Con un bagaglio di esperienza più che ventennale in campo sindacale da esperto tecnico ed economico, Enzo Pagliano raccoglie la sfida, consapevole dell'importanza che il comparto agricolo cuneese riveste. 40.000 soci, 20.000 imprese iscritte alla Camera di Commercio. A presentarlo al Consiglio di Coldiretti Cuneo, il segretario generale di Coldiretti Enzo Gesmundo e il capo area organizzazione e servizi Bruno Rivarossa, già direttore della Federazione Cuneese, che manterrà il ruolo di delegato confederale. Pagliano ricopre anche incarichi nazionali e consigliere del CAA nazionale e componente del Consiglio confederale in rappresentanza dei direttori. Spero di poter portare alcune esperienze positive ed eventualmente evitare esperienze negative che ho vissuto in altre realtà della nostra grande Italia e quindi che possono diventare utili per il territorio cuneese. In provincia di Cuneo poi abbiamo sicuramente grandi esperienze di valorizzazione di alcune produzioni anche già trasformate, certamente dobbiamo ancora fare qualche passaggio per qualche altro tipo, qualche settore che magari è ancora un po' in difficoltà. Io parto da un presupposto per cui l'agricoltura sicuramente può essere un grande bene per il sociale, nel senso che può essere anche di grande aiuto per il sociale. Soprattutto in questo periodo di grandi ristrettezze economiche per il Paese si possono sviluppare delle attività connesse con l'agricoltura, tra l'agricoltura e il sociale e non solo quelle classi che conosciamo che possono essere gli agriturismi o gli agriasili, ma si possono sviluppare anche delle attività nel sociale collegate agli anziani dove non possono e non debbono essere un peso, non dobbiamo far sentire un peso, ma possono essere utili e l'agricoltura può essere utile anche per dialogare su un territorio che magari con gli anziani si sentono più a loro agio. Grazie per averci seguito in questa edizione, vi ricordiamo che il servizio è rivedibile sul sito www.cuneo.coldiretti.it. Appuntamento alla prossima edizione.